Mamme con bimbi piccoli, disabili o persone con difficoltà economiche a loro sono indirizzati. Buoni viaggio per il servizio taxi e noleggio con conducente varati dal Comune di Napoli. Un sostegno economico per aiutare la mobilità di chi vive condizioni di disagio e sostenere anche i tassisti che a causa del Covid hanno visto calare in modo drastico i loro introiti. Era una misura che c'era stata data col Covid ma non mai usata. Noi adesso riusciamo a dare circa 3 milioni di euro, aiutiamo le persone che hanno bisogno di avere una possibilità di camminare in città con i taxi. Possiamo dare da un minimo di 80 euro al massimo di 120 euro, ogni corsa si spende un massimo di 20 euro ma si possono fare più corse. Il bonus è finanziato con fondi nazionali che vengono trasferiti alle comuni e erano stati appostati e rimasti tralasciati in un cassetto. L'assessorato li ha recuperati e li ha praticamente portati addirittura al massimo del loro valore, aumentandone il contributo al 100%. Il sostegno aiuta anche una categoria fortemente penalizzata dal Covid, quella dei tassisti. I taxi hanno dovuto garantire il servizio di trasporto pubblico sulle loro spalle e durante il periodo Covid, così come hanno fatto gli altri servizi essenziali. Una cosa importante ed è appunto che questi 4 milioni, quelli che saranno e quelli che saranno spesi, saranno una boccata d'ossigeno.